In Consiglio regionale salta l'approvazione della nuova legge a favore dei cacciatori e inevitabilmente scoppiano le polemiche. Il primo a scendere in campo contro quello che viene definito un atto di irresponsabilità è il consigliere regionale Giovanni Fortunato, promotore della modifica. È stata scritta, rimodulata, scritta all'avanguardia con la struttura e dal sottoscritto quanto era di mia esclusiva competenza la caccia e la pesca. È stata voluta, diciamo, in Consiglio, l'altro consiglio regionale anche dalla parte della maggioranza e minoranza chiesero ulteriore integrazione che tornasse il testo in commissione. Tornato in commissione è stato approvato in modo unanime, quindi anche il PD e tutti quanti, però paradossalmente quando si è iniziato l'idro della discussione abbiamo iniziato a votare l'articolo 1, approvato, dopodiché l'opposizione, in modo demagogico e strumentale, quindi ha visto che alcuni della maggioranza, tra cui la cosa grave, l'assessore all'agricoltura caccia e pesca, l'onorevole Nugnesi Daniela, si è allontanata dall'aula, quindi hanno approfittato di questo in modo tale venisse meno il numero legale. Ora, per il consigliere regionale, l'auspicio è che la nuova legge sulla caccia venga presto approvata. Il piano faunistico sperato e desiderato da molto tempo è stato da me insieme alla struttura preparato, è stato approvato in giunta e in consiglio regionale, un atto molto importante che consentirà, una volta approvato il calendario venatore, spero che l'assessore all'agricoltura caccia e pesca nei prossimi giorni porterà in giunta l'approvazione del calendario venatore, di avviare l'apertura anticipata dell'attività venatoria come succede nelle altre regioni. Quindi un po' di pazienza, io credo che finalmente in un giro di un mese, due mesi, daremo anche i cacciatori al mondo venatore, che io credo che sono i veri tutori dell'ambiente, perché gli ambientalisti oggi, i pistei ambientalisti, sono quelli che dal salotto della città di Napoli, di Roma, di Milano fanno gli ambientalisti e il territorio, il terreno e cosa succede sui territori e nella foresta o nell'ambiente non sanno nulla. Quindi io credo che i cacciatori sono delle vere sentinelle di salvaguarda del nostro territorio. Quindi vive i cacciatori perché chiaramente va fatta una legge che va salvaguardata la specie ovviamente, ma io credo che loro sono i veri ambientalisti. Quindi io credo che i cacciatori sono i veri ambientalisti.